Va ora in onda, Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Radio Speranza Notizie Un appello a sentirsi tutti responsabili nel nostro paese della cosa pubblica è arrivato stamattina dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Poletti, che ha partecipato a Pescara al Social Lab, evento che mette insieme tutte le realtà operanti nel sociale in Abruzzo. Poletti, secondo cui serve collaborazione tra tutte le parti per migliorare la gestione del sociale, si è espresso al nostro microfono sul Dopo di Noi, progetto di legge per far vivere in ambiente domestico le persone con disabilità anche quando non hanno familiari. Va approvato presto, ha detto, so che all'ordine del giorno delle commissioni parlamentari. Ne parleremo a servizio interviste oggi alle 18.13 e alle 21.15. Ci sarà una cabina di regia nelle riforme del piano sociale composta da tutti i soggetti che sono impegnati nel sociale. Lo ha annunciato l'assessore alle politiche sociali della Regione Abruzzo, Marinella Sclocco, nel suo intervento al forum. La cabina di regia ha detto l'idea di partecipazione che ho in mente per costruire il nuovo modello di sociale, così come sarà necessario il contributo di tutti. Il passaggio della cabina di regia, che avrà anche l'esame della Giunta regionale, ha anticipato il delicato tema della gestione dei fondi nel sociale. Apprendiamo con piacere che i fondi del bando turismo stanno per essere erogati, cioè forniti, agli operatori che li attendono da quasi un anno. Questo non può che farci piacere, perché ciò rappresenta una boccata d'ossigeno fondamentale per un'economia che sta ancora soffrendo tantissimo. Abbiamo colto quindi nel segno, indicando all'opinione pubblica e alle imprese, l'esistenza di una considerevole ritardo negli uffici regionali. La Regione proceda con tranquillità e celerità a fare il suo lavoro e ad escludere i progetti che non hanno i requisiti, lo afferma il direttore regionale della CNA, Graziano Di Costanzo. Le scelte della Regione Puglia sono state prese sulla base del minuzioso lavoro che abbiamo fatto a proposito del gasdotto SNAM e di cui abbiamo doviziosamente riferito allo stesso governatore della Puglia nel corso della Convention Human Factor di Milano. La nostra esperienza è stata ed è per la Puglia motivo di continuo confronto e riferimento e siamo stati noi a spingere sulla Puglia ad assumere un ruolo di regia nella battaglia anti-gasdotto. Lo ha detto l'assessore regionale all'ambiente, Mazzocca, sulle polemiche relative all'operato della Regione Abruzzo sul metanodotto SNAM. Anche in Puglia infatti è dibattito su un gasdotto. Sarà ripartito su tre giorni a Pescara il calendario degli appuntamenti di carnevale a cura dell'assessorato a turismo e grandi eventi del Comune. Si comincia domenica, si arriva martedì con maschere, musica e divertimento. Un'ordinanza firmata dal sindaco Alessandrini istituisce il divieto di vendere, avere e usare prodotti imbrattanti e urticanti come polveri, spray, vernici particolari e simili da sabato 14 a martedì 17 febbraio compreso. A Pescara alcuni lavori di potatura interesseranno via Valle Roveto dal 23 al 24 febbraio. Un'ordinanza istituisce il divieto di transito pedonale e automobilistico di sosta e di fermata lungo il tratto di via compreso tra l'intersezione con via del circuito per tutta la lunghezza del tratto stradale a senso unico di marcia fino all'incrocio in via Pierangeli dal 23 al 24 febbraio dalle 8.30 alle 14.30. E' stato deciso all'unanimità lo scioglimento anticipato della Palacongressi S.P.A., così come la conseguente messa in liquidazione. E' quanto deciso ieri nel corso dell'Assemblea straordinaria che ha coinvolto il comune di Montesilvano proprietario al 51% e la provincia di Pescara titolare del restante 49%. L'approvazione dà così seguito alle recenti delibere licenziate dal Consiglio Comunale di Montesilvano e da quello provinciale. Per l'amministrazione la Palacongressi S.P.A. è costata alle casse del comune circa 36.000 euro l'anno, ovvero quasi 500.000 euro, oneri che non si sono tramutati in benefici per la collettività. Sopralluogo stamattina per l'assessore ai lavori pubblici del comune di Montesilvano Walter Cozzi presso gli edifici scolastici dell'Istituto Comprensivo Troiano Delfico, al centro della perlustrazione cui ha preso parte anche la ditta che ha realizzato il servizio di videosorveglianza oggi in uso su tutto il territorio di Montesilvano, l'individuazione dei punti nei quali installare alcune telecamere e ieri l'assessore Cilli ha incontrato alcune mamme dell'elementare di Blasio con la ditta che ha assicurato pulizia in pochi giorni e pittura dei muri nel periodo pasquale dopo gli atti vandalici dei giorni scorsi. Zucchero filato, dolci tipici, coriandoli, palloncini e trucca bimbi. Ci sono tutti gli ingredienti per la festa di carnevale per bambini che si terrà a Montesilvano martedì al 17 febbraio dalle 15. L'iniziativa, decisa dalla giunta comunale di Montesilvano, è stata organizzata da alcuni commercianti di Via D'Annunzio che per l'occasione si trasformeranno in animatori per piccini. Martedì dunque, a partire dalle 14 fino a fine evento, sarà chiusa il traffico Via D'Annunzio nel tratto compreso tra Via Benedetto Croce e Via Ovidio. E siamo alle previsioni del tempo. Stasera su Pescara e Provincia si prevede cielo sereno con temperature da 6 a 7 gradi sulla costa e da 3 a 7 gradi nelle zone interne e venti deboli. Domani si prevede cielo sereno con temperature da 3 a 14 gradi e venti deboli. Il mare è previsto da quasi calmo a poco mosso stasera e quasi calmo domani. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della chiesa metropolitana di Pescara Penne, grazie a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Grazie a tutti.